Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo le notizie in primo piano nel nostro sommario Addio a Don Peppe, il parroco di Calcinelli aveva 72 anni Era ricoverato a Pesaro per il Covid Primo giorno di scuola in presenza per uno studente su due alle superiori Un piccolo passo verso la normalità Per noi è importantissimo, è emozionante questo giorno Perché è ovvio che la scuola non è solo trasmissione di conoscenze Non è solo quel luogo dove si forma la cultura della persona Ma dove si forma proprio la persona Sui test rapidi a scuola Il sindaco di Pesaro Ricci non arretra di un millimetro Giovedì si parte e non si placa nemmeno la polemica Con l'assessore regionale della sanità a Salta Matti La previsione del tempo per il 2021 Secondo le cipolle di Urbania Sarà un anno con poche precipitazioni E un'estate mite Tra poco in diretta su Fano TV Primo cittadino con il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Lutto nella diocesi di Fano La notte scorsa è morto Don Giuseppe Monaco Da tutti conosciuto come Don Peppe Il parroco di Calcinelli di Colli al Metauro Aveva 72 anni Era ricoverato al San Salvatore di Pesaro per Covid Simona Zonghetti Immagini, foto e testimonianze Per ringraziare Don Giuseppe Monaco In occasione dei suoi 40 anni di sacerdozio Un video realizzato pochi anni fa E che è stato riproposto oggi dalla diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola Per ricordare il parroco amato da tutti Tornato alla casa del padre ieri sera intorno a mezzanotte Don Peppe si è spento all'età di 72 anni All'ospedale San Salvatore di Pesaro Dove era ricoverato per coronavirus Era nato a Villa Chiara in provincia di Brescia Il 29 novembre 1948 Ed era stato ordinato presbitero Il 5 giugno del 76 nella cattedrale di Fano Preghiamo insieme per lui, per la sorella E per la nostra chiesa hanno chiesto Il vicario generale Presciutti E quello pastorale Don Francesco Pierpaoli Una perdita che ha lasciato sgomenta All'intera comunità Centinaia i messaggi di cordoglio Arrivati in queste ore Come quello dell'azione cattolica Che ricorda gli anni Che vanno dal 1984 all'89 Quando Don Giuseppe è stato vice parroco a Sant'Orso Aiutando nella missione pastorale Don Luigi Spallacci In un quartiere in continua espansione Grazie a lui ci hanno scritto Si sono svolti i campi scuola Fesse del ciao ACR Gruppi giovanili Tutte iniziative Che per i tempi di allora Erano una grande novità Esperienze che sono state come un seme fecondo Nella vita parrocchiale La data dei funerali è ancora da stabilire Quando avremo indicazioni più precise Per la celebrazione dell'eseque E fanno sapere dalla diocesi Le comunicheremo Intanto nell'attesa dell'ultimo saluto Lo vogliamo ricordare attraverso i racconti I sorrisi e la stima degli amici, dei fedeli E di tutti coloro che lo hanno amato E dopo tre mesi di chiusura Riaprono i battenti Le scuole Le scuole della regione Marche Un ritorno in classe atteso da professori e alunni Ormai stanchi della didattica a distanza Letizia Marchionni Suona la prima campanella Dopo tre mesi di silenzio Si torna in classe Dopo il ripensamento della giunta Visto il calo della curva dei contagi Riguardo alla precedente ordinanza Del 5 gennaio Che prorogava fino alla fine del mese La didattica a distanza al 100% Nelle secondarie di secondo grado Gli studenti delle scuole superiori Questa mattina sono tornati A ripopolare i corridoi e le classi Seppur dimezzati Il 50% degli alunni infatti È tornato in presenza Mentre il restante 50% Resta in didattica a distanza Un ritorno in classe anticipato ed inaspettato Che però è stato ben accolto Dalla maggior parte dei ragazzi Stanchi nonostante le comodità della dad Della sola didattica a distanza Come è andato questo ritorno? Dai abbastanza bene Sicuramente siamo contenti Di rivedere i nostri compagni Notiamo la differenza Anche la mancanza degli altri Che guardandoli sulla tv Non è ovviamente la stessa cosa E sicuramente la storia dell'attenzione Migliora Stando in classe Ed è molto importante Soprattutto per noi Che abbiamo l'esame quest'anno E quindi per essere rientrato Sono veramente contento La didattica a distanza Non è molto da rimproverare Non ci dispiace stare a casa Ecco Nel letto Ti dà un po' le comodità Sì questo sì Questo certamente Però come ha detto Prima il mio compagno Ovviamente essendo in quinta È molto più utile per noi Avere un rapporto diretto Con il professore E questo ci avvantaggia molto Si evitava lo zaino E avevi tutti i libri lì Pronti sul momento E anche il trasporto Non era un problema Essendo comodamente a casa La didattica a distanza Si era utile Ma il contatto diretto È molto meglio Potremmo finalmente Tornare in classe Dalla prossima settimana Diciamo che ci manca Sì vedere anche I nostri compagni E rapportarci con la prof Non ci ha fatto Potremmo dire Per noi È tornare a svolgere La nostra funzione Perché noi siamo stati Sospesi nelle nostre funzioni Perché la nostra funzione È una funzione Educativa principalmente E formativa Nei confronti degli studenti È difficile formare E educare uno studente Tramite un computer Cioè per quanto L'attività può essere Fatta in maniera Specifica Però noi non riusciamo Ad avere quel contatto Che si viene detto Contatto umano Con lo studente Il quale poi riconosce Nell'insegnante Quel fra virgolette Leader Che nella vita Spero si ricordano Come un modello La cosa che più Ci rende felici E che è una ripresa Con gli studenti Che sono molto interessati A partecipare E anche da casa Vivono questa situazione In una maniera Molto più coinvolgente Una ripartenza Desiderata da molti Che è un piccolo passo Verso la normalità Il buona scuola Ai ragazzi Arriva anche Da parte Dell'assessore regionale All'istruzione Giorgia Latini Io auguro Veramente A tutti i ragazzi Un buon Rientro A scuola Anche se al 50% Sperando che questa percentuale Possa salire Il prima possibile Questo libro Ha stato appunto Molto importante E un altro importante È l'introduzione Il ritorno sui banchi Era fortemente voluto Nonostante le difficoltà Oltre che da alunni E professori Anche dai dirigenti Coinvolti in prima persona Nell'organizzazione Per una ripartenza In sicurezza L'ordinanza Che anticipa Di una settimana La riapertura Delle scuole Ci ha colto di sorpresa Spiega il preside Del liceo Nolfi Apolloni Di Fano Samuele Giombi Quello che soprattutto Ci ha interrogato È stata questa Questa comma particolare Che raccomanda fortemente Ancorché non obblighi La divisione al 50% Di ogni singola classe Questa esigenza Cozza con altre situazioni Di carattere didattico E di carattere strutturale Strumentale Di carattere didattico Perché L'organizzazione Della lezione Della proposta didattica Dell'insegnante Simultaneamente Prevista Su un gruppo Che è presente Fisicamente Di fronti a sé E su un gruppo Che nel contempo È assente Con cui si interagisce A distanza Ovviamente Difficoltà li crea Ma soprattutto Poi c'è il problema Dei collegamenti Cioè Questo significa Che Dall'istituto Partono Contemporaneamente Tanti videocollegamenti Quindi Le nostre Le nostre linee Le nostre bande Non sono così Performanti Abbiamo però Voluto Non Non sottovalutare Questo invito Della regione E quindi L'abbiamo accolto A differenza Di altre scuole Che hanno invece Ritenuto I non farlo E Proprio perché Vogliamo Provare A realizzarlo Questo desiderio Di incontrare Di incrociare Gli occhi Gli sguardi Tutto ciò Che ha a che fare Con l'aspetto empatico Dell'insegnamento Diciamo così Certamente Era desiderato Era voluto Tutto ciò Deve Combinarsi Con esigenti Di sicurezza Viviamo questo rientro In classe Con gioia Ha poi affermato Eleonora Ugello Dirigente del Polo 3 Di Fano Rivedere la scuola viva Per noi È emozionante È ovvio che la scuola Non è solo Trasmissione di conoscenze Non è solo Quel luogo Dove si forma La cultura Della persona Ma dove si forma Proprio la persona Lo stesso allenamento Non è possibile Attraverso un monitor E quindi I ragazzi Hanno sofferto I professori Hanno manifestato Un attaccamento Al senso del dovere Così forte Da riuscire A superare O quantomeno Tentare di superare Anche l'impossibile Cioè quello Di far vivere Attraverso un monitor Ciò che invece Nella realtà È diventato virtuale Oggi È una gioia Perché rivedere La scuola viva Sentire di nuovo Le chiacchiere Passare Per i corridoi E anche Rimproverare Il ragazzo Per la ragazza Perché c'è qualcosa Che non è per il verso giusto Ci fa Ritornare di nuovo In una dimensione Reale Che tutti avevamo perso E che era una sofferenza Per tutti Si è grave Di 11 vittime Il bilancio Marchigiano Dei deceduti Con coronavirus Hanno perso la vita Anche 4 persone Residenti Nella provincia Di Pesor Urbino Di cui 2 fanesi Invece I nuovi positivi Sono 200 Di cui 28 In provincia di Pesor Urbino I ricoveri per covid Sono in lieve aumento Ad oggi Ci sono 73 pazienti In terapia intensiva E 149 In semi intensiva Anche nello scorso fine settimana Sono proseguiti I controlli Sul rispetto Delle norme Anticontagio 41 Sono le persone Multate Mentre 3 Le attività commerciali Chiuse Dalle forze Dalle forze Delle forze Dell'ordine E adesso Torniamo a parlare Dei tamponi Nelle scuole Perché continua Il braccio Di ferro Tra il sindaco Di Pesoro Matteo Ricci E l'assessore Alla regione Marche L'assessore Alla salute Alla sanità Filippo Santamartini Nonostante il blocco Il sindaco Non molla E fa partire Lo screening Da giovedì prossimo Angelica Panzieri Però che la regione Torni sui suoi passi Matteo Ricci Non arretra Di un millimetro Continua Lo scontro Istituzionale Sui tamponi Tra il sindaco Di Pesaro E l'assessore Regionale Alla sanità Filippo Saltamartini Dopo il no Della regione A cui il primo Cittadino Aveva chiesto Una parte Di 600.000 Tamponi Rimasti Inutilizzati Da impiegare Appunto Per lo screening Agli studenti Delle superiori Ricci Ha deciso Di andare dritto Per la sua strada E così A partire da giovedì 28 gennaio A Pesaro Il comune Offrirà tamponi rapidi Ad 8.400 studenti E ancora I docenti A tutto il personale ATA Altri 1.100 membri Un investimento Di circa 80.000 euro Che l'amministrazione Comunale Ha tinto direttamente Dal fondo Covid Saremo costretti A fare da soli Faremo da soli Con le nostre forze Con le nostre risorse Sostituendoci Alla regione È un'iniziativa Che doveva fare La regione La poteva fare La regione Grazie alla bella iniziativa Dello screening gratuito Ha almeno 600.000 tamponi In questo momento Inutilizzati E le marche Potevano diventare La regione più sicura Per il rientro scolastico Perché Questi tamponi Potevano essere effettuati Anche periodicamente Dando davvero Maggiori garanzia Dalla sicurezza All'interno della scuola Poi noi abbiamo Proposto Di mettere a disposizione Il personale Fino all'ultimo C'è stato detto Che i tamponi Ci sarebbero stati dati E poi Ci si è inventati Una motivazione Burocratica Diciamo che non sta Nei piedini In terra E ci è stato detto Di no Abbiamo dovuto Spendere 36.000 euro Nei tamponi Mentre ce ne sono 600.000 Della regione Chiusi in un magazzino Non capisco Perché a Pesaro Si potrà tornare a scuola In maggiore sicurezza Grazie al nostro sforzo Non lo si possa fare In tutte le scuole marchigiane Per tutti gli studenti I tamponi Saranno effettuati In più date Da circa 30 medici Ed infermieri Come spiega L'assessore alla salute Del comune di Pesaro Mila Dell'Adora Quattro saranno i siti individuati Il campus scolastico Il Santa Marta Il Cecchi E il Mengaroni Lo screening parte il 28 Per i ragazzi Che rientreranno La prima settimana Il 25 di gennaio E nella seconda settimana Abbiamo ipotizzato Le date del 2-3 febbraio Per i ragazzi Per l'altro 50% Che rientrerà La settimana successiva Sono tanti gli operatori volontari Che abbiamo trovato Da medici Infermieri Quindi una grande squadra Che coordinerà il tutto Ovviamente Come avete già sentito Il comune è promotore Di questa iniziativa Ma non sarà Il titolare sanitario Dei dati Quindi nessuna preoccupazione In questo senso Faremo firmare Un modulo di consenso Da parte dei genitori L'adesione sarà Su base volontaria Quindi il ragazzo Minorenne Avrà anche L'autorizzazione Del genitore Invece nel caso Di maggiorenne Comunque compilerà Un'autodichiarazione Lui A Fanno invece Il sindaco Massimo Seri Continua la sua battaglia Contro la distribuzione Dei fondi Dello Stato Il primo cittadino Coinvolgerà I sindaci Di comuni Esclusi Dai contributi Destinati Soltanto Alle città Capoluogo La città Capoluogo Diventa Dal mio punto di vista Un'ingiustizia Perché Non si dà A tutti La pare opportunità Perché le esigenze Che hanno questi territori Ce l'hanno anche città Come fanno Ma anche città Con più abitanti Che Non possono accedere Servono equità E rispetto Per il sindaco Di Fanno Massimo Seri Che ritiene Intollerabile Che importanti risorse Arrivino esclusivamente Alle città Capoluogo Tagliando fuori Le cosiddette Città medie Ritenute il fulcro E il cuore pulsante Del paese Una disparità di trattamento Che per il primo cittadino Rappresenta un freno Allo sviluppo E alla crescita Di tanti comuni A discapito Di circa 6 milioni Di italiani Tengo che tutte le comunità Devono avere le stesse opportunità Gli stessi diritti Come noi lo facciamo Con i nostri concittadini Chi rischia di rimanere Un passo indietro Deve essere accompagnato Pensate nella regione Marche Ancona e Peso Sono due città Capoluogo Con un maggior numero Di abitanti Poi c'è Fanno Che è più grande Di altre tre città Capoluogo Di tutte le altre E a questi bandi Non può partecipare Ad esempio Al bando periferie Spiega Seri O a quelli per la cultura L'innovazione sociale La rigenerazione urbana O ai bandi Dedicati a sostegno Alle imprese Le risorse del governo Sono di tutti Ribadisce il primo cittadino E non soltanto di pochi O meglio degli stessi Infatti Negli ultimi anni I criteri Sono sempre stati sbilanciati A vantaggio solo Dei comuni Capoluogo Quello che Seri Chiede con chiarezza Sono nuove regole Per l'assegnazione Delle risorse pubbliche Modalità di accesso Che tengano conto Del numero di abitanti E della superficie territoriale Lo scriverò innanzitutto Al presidente Di Anci Che ci rappresenta Lo manderò Ai colleghi Delle città Che hanno le nostre stesse Caratteristiche Perché dico tutto questo Perché oggi si apre Una nuova partita Se prendiamo Fano Per la popolazione Tutte queste città Capoluogo Che partecipano Un terzo Hanno meno abitanti di Fano Se guardiamo La superficie quadrata Il 50% delle città Ha meno superficie quadrata Di Fano E noi siamo Non abbiamo potuto Partecipare a queste Non sono stati grandi Tanti bandi Sono stati pochi Ma significativi Con tante risorse Comuni Che hanno preso Anche 10 milioni E quindi io penso Che tutti debbano avere Che abbiano le stesse Caratteristiche E l'opportunità E la possibilità Come sarà il tempo In questo 2021? Il risponso Arriva dal barometro Delle cipolle Di Urbagna Come da tradizione Ormai Il barometro più famoso Quello di Urbagna Questa mattina Ha parlato Rivelando Quale sarà Il meteo Per il 2021 Per capire meglio Cosa accadrà Nei prossimi mesi Ecco che la signora Emanuela Forlini Insegnante elementare Che da anni Prosegue la tradizione Del padre Traccia le previsioni Leggendo i 12 spicchi Di cipolla bianca Esposti nella notte Di San Paolo Tra il 24 E 25 gennaio Sarà un inverno Con temperature rigide E con tutti i fenomeni Tipici del maltempo invernale Ma non Abbondante di neve La primavera Si annuncia Scarsa di piogge Con temperatura e miti E per gran parte Con giornate di sole La stagione estiva Si preannuncia Bella ed estesa In tutti i suoi mesi Mentre l'autunno Sarà mite e soleggiato Ma andiamo a vedere Nel dettaglio Mese per mese Quale sarà la tendenza Gennaio conferma La variabilità del mese Febbraio sarà caratterizzato Da giornate molto fredde Più gelo e galaverna Che vere e proprie Precipitazioni nevose Marzo scarso di pioggia Ma con molto vento Il mese di aprile Vedrà molte giornate Tiepide e di sole E darà il via Alla stagione delle fioriture Caratterizzato dal bel tempo Il mese di maggio Giugno invece Sarà variabile Ma verso il bello Soltanto qualche giorno Piovoso Nella prima parte del mese Luglio Bel tempo Con giornate piene di sole Come anche agosto Ma con qualche giorno Piovoso Verso la fine del mese Settembre Continua nella linea Delle temperature estive Nel mese di ottobre Inizio dell'autunno Con tempo mite E ancora buono Novembre Sarà poco piovoso E con molte nebbie Infine a dicembre Torneranno le temperature fredde E con molte giornate di gelo Staremo a vedere Adesso invece Ci salutiamo qua Perché tra poco Poco subito dopo Le previsioni del tempo Non quelle delle cipolle Ma quelle dei meteorologi Ci sarà la pubblicità E poi Primo cittadino Ospite Il sindaco Di Senigallia Che sarà A disposizione Dei telespettatori Per rispondere Alle domande Dei cittadini Io mi fermo qui Grazie Per averci seguito Ci vediamo domani mattina Alle sette in diretta Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti